Buon pomeriggio dal cuore a tutti everybody! Questo è un vlog un po' casareccio di quello che mi piace a voi. Innanzitutto oggi siamo esattamente... martedì non ricordo martedì 29 settembre del 2020 e allora sto girando col telefono rivolto verso mua per dirvi che è tornato il covid e si è raggiunta la notizia al garibaldi siamo il terzo forza di appiglio in questa città e abbiamo iniziato a dimettere tutti i pazienti a mandare via tutti e sistemare tutti i due piani neurologia non ci sarà più io non sarò più neurologia e tutti quelli di neurologia saremo destinati purtroppo nuovamente al covid e la cosa che mi fa più imbessalire di tutti è che mi devo fare il covid per due volte ossia tutti gli altri co 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 sono stati scansati in altri reparti io sono stata l'unica sficata a rimanere da un lato sempre nello stesso punto ma dall'altro lato a rifare il covid con tre i finali o con la y sono contenta che angela da mondello giammare abbia detto che in realtà il covid c'è sempre esistito e bisogna indossare le mascherine non credo che mettere paura le persone faccia cambiare questa situazione però il fatto che si incitano le persone a fare determinate cose sarebbe meglio e purtroppo il san marco è stato pieno annesima sono già a metà e io ho la mia paura che ne portano più di sette persone che questa seconda ondata sia veramente peggiore è la cosa che mi fa più incazzare ovviamente lo dico è il fatto che mi devo di nuovo vestire in quel modo mi devo vestire con tutto l'hambacadam per queste teste di cazzo giovani che durante l'estate sono andate in discoteche sono fatti viaggi sono insomma a divertirsi e ad assemblarsi con altre persone sono veramente veramente seccata da un lato sono felice perché ovviamente mi hanno confermato che mi hanno rinnovato il contratto che ovviamente ancora è tutta all'aria per voce quindi non ho firmato ancora assolutamente nulla mi scade tra poco dopo domani praticamente il 2 ottobre ti racconto un po tutti i vari aggiornamenti come sempre che mi avete aiutato e supportato durante tutto questo percorso di tutti questi sei mesi del 2020 e penso che mi rinnovano altri tre mesi fino a natale dicembre diciamo dopo di che dovrebbe esserci altri tre mesi fino a marzo dall'anno prossimo dare da cucchiare un anno di servizio in ospedale quindi questo già è sicuro perché comunque me l'hanno detto ovviamente momento in cui io firmerò mi sentirò ancora più al sicuro detto ciò io incrocio le dita raga speriamo bene se da da ieri notte a mezzanotte siamo già stati cobit quindi da oggi in poi abbiamo anticipato anziché l'1 ottobre ma il 29 settembre di diventare già cobiti la paura è tanta l'ansia c'è la mia preoccupazione sono i colleghi perché sono più inghiappati di me all'inizio quando ho iniziato questa cosa con la bocca aperta e non so i nuovi co 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 chi saranno perché ne porteranno spero qualcuno nuovo perché siamo veramente troppo pochi e i miei dubbi sono i colleghi i giorni massacranti forse più di tre ore che non so raga come ce la devo fare e mi devo imbuttire piena piena di cerotti perché mi scopperà tutto a sangue cioè il naso come vi dissi mi scoppiava a sangue perché tutti i dispositivi sono made in china fanno male e ripeto la cosa che mi fa più seccare di tutti che mentre voi siete divertiti col culo in aria io mi tentavo a divertirmi di là col culo per terra e a guardare questo masso di deficienti che ovviamente hanno beccato il virus non so che persone sono non so che tipo di persone sono quindi non lo posso dire da un lato ma sicuramente avranno anche altre patologie penso e spero ovviamente che da noi vengono non indubbati senza respiratori senza cozzate varie quindi niente detto ciò e vi mando un saluto non so quando metterò questo video sicuramente quando già è tutto iniziato io mi auguro che da noi non ce li porteranno mai sinceramente che continuiamo così come stiamo facendo diciamo le dita che mia mamma mi protegga sempre dall'alto come ho fatto prima e che dio me la mandi buona anche stavolta qui 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 Grazie.